Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo La formazione dei responsabili. Spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo La formazione dei responsabili perché c'è molta attenzione nel dare una giusta formazione sacra ai responsabili delle parrocchie che con molta dedizione attuano questo compito nella parrocchia e la rendono viva e fedele. La formazione è sacra ed è fondamentale, unisce molte parti, le consolida e offre intensità all'unico progetto divino. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo La formazione dei responsabili. C'è molta attenzione nel dare la giusta formazione sacra ai responsabili che, con fede, guideranno una parrocchia viva. La formazione sacra è fondamentale e unisce le parti con intensità e unica nel suo genere latente ma quando agisce è lampante e avida. I responsabili sono chiamati ad essere un esempio sacro e foriero per poter così infondere le idee che rendono un uomo più serio. La formazione dei responsabili, compito arduo e difficile, rende le anime più umili per capire il modo di professare la fede. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.